4 VIVO TRIIIIIIII Ci siete? Vi fate sentire un po' di bordello Dai che siamo qui per divertirsi Vorrei sentire un applauso anche per tutti gli altri bandi che hanno sonato prima di noi E un cross test, si ma questi sono tutti ragazzi che li sbattono al culo Per sbarare la musica propria, ok? Fatemi sentire un po' del vostro gesto di potuto calore Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.